Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo88 e oggi voglio parlare nello specifico del verdetto che è stato emesso ieri dalla giuria per quanto riguarda il processo tra Johnny Depp e Amber Heard. Quindi mettetevi comodi perché ci sono tante cose da dire. Sigla! Allora innanzitutto voglio ringraziare tutti quelli che erano in live ieri sera perché io e Rob McQuack abbiamo seguito in diretta e in contemporanea sui nostri canali Twitch il verdetto insieme ad Alice dell'Ora del Tè e eravate veramente tantissimi quindi io vi abbraccio perché siete fantastici, non credevo saremmo stati così tanti. Davvero grazie ed è stato un momento di grande tensione quando la Corte si è riunita per leggere il verdetto di questo processo che è durato settimane. Io mi sono reso conto in questi ultimi giorni di quanto le nostre vite siano costantemente esposte perché abbiamo guardato tutte le fasi del processo in cui veniva detto cos'era accaduto tra di loro ed era come in un certo senso invadere la loro privacy e mi sono per l'appunto reso conto di come ogni giorno noi ci esponiamo in un certo senso sul web scriviamo magari cose private tramite mail, scriviamo messaggi a persone che ci sono vicine raccontando magari cose che non vorremmo che altri sapessero e il web inevitabilmente ci espone perché non siamo mai realmente al sicuro di eventuali invasioni della privacy è per questo che utilizzare una VPN può essere molto utile e come sapete io consiglio sempre NordVPN perché una VPN permette di navigare in sicurezza senza lasciare traccia della cronologia ISP che sono i fari Team, FastWeb eccetera e permette per l'appunto di rendere sicuro l'indirizzo IP nascondendolo permette di far sì che si aumenti la sicurezza nella navigazione soprattutto quando si va magari in bar o hotel e ci si connette a quelle linee wifi non protette per cui è importante cercare di proteggersi tra l'altro con NordVPN adesso è anche inclusa la Threat Protection che è un anti-malware che si attiva in background a prescindere che l'applicazione si attiva oppure no e si attiva con un click quindi molto comodo e sicuro e in descrizione trovate il link per avere l'offerta con cui vi abbonate per due anni a NordVPN avete un mese gratis e potete chiedere il rimborso se non siete soddisfatti allo scadere del trentesimo giorno di prova quindi se desiderate navigare in maggiore sicurezza NordVPN sicuramente è un'ottima soluzione e ho pensato per l'appunto a tutto questo proprio perché loro due hanno venduto i diritti del processo per pagare anche le spese legali ci hanno fatto una discreta somma ma cosa hanno perso in tutto questo? hanno perso la privacy era un po' anche l'obiettivo di Johnny Depp quello di rendere tutto quanto pubblico in modo da riabilitare la propria immagine prima ancora che il processo fosse finito qualcuno si chiederà ma come mai ha accettato anche Amber Heard? probabilmente perché la cifra che hanno ricavato dalla vendita dei diritti è talmente alta che lei sapendo che avrebbe potuto avere bisogno di soldi non ha potuto fare meno di accettare questa è una mia semplice ipotesi sta di fatto che dopo tutto questo circo mediatico che si è creato per sei settimane siamo giunti ad un verdetto io sono rimasto sinceramente colpito perché non sapevo cosa aspettarmi da questo verdetto da un lato credevo che avrebbero dato ragione ad Amber Heard dall'altro c'erano tante cose che andavano a favore di Johnny Depp io ricordo che questo processo era un processo civile che ha intentato è una causa che ha intentato Johnny Depp nei confronti di Amber Heard le ha chiesto 50 milioni di dollari per diffamazione riguardo l'articolo scritto su Washington Post un paio di giorni fa era lunedì no martedì anzi martedì non si sapeva se sarebbe stato raggiunto il verdetto perché la giuria aveva un dubbio la giuria aveva un dubbio ovvero bisognava concentrarsi su tutto l'articolo solo sul titolo e quindi il giudice ha stabilito che bisognava concentrarsi sul titolo e quindi c'erano delle domande specifiche a cui la giuria doveva rispondere riguardo la questione adesso vi leggo quali erano queste domande che andavano quindi a comporre il punto focale del processo e in base a come avrebbero risposto a queste domande sarebbe stato formato il verdetto le domande erano le seguenti le leggo dal telefono perché altrimenti non me le ricorderai mai allora Miss Heard ha fatto pubblicato la seguente dichiarazione che poi è il titolo dell'articolo Amber Heard I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath that has to change che significa Amber Heard due punti ho parlato a riguardo contro la violenza sessuale e ho affrontato l'ira della nostra cultura questo deve cambiare la dichiarazione riguardava il signor Depp seconda domanda terza la dichiarazione è falsa quarta la dichiarazione ha un'implicazione diffamatoria riguardante il signor Depp quinta la diffamazione l'implicazione diffamatoria è stata pensata e intesa dalla da Miss Heard sesta a causa delle circostanze che circondano la pubblicazione di questa dichiarazione si è formata una implicazione diffamatoria nei confronti del signor Depp 7 Miss Heard ha fatto la dichiarazione con effettiva malizia a tutte queste domande che poi sono in realtà delle dichiarazioni che andavano confermate è stato risposto sì per cui Amber Heard è stata condannata parte civile per diffamazione riguardo quell'articolo ora questo non prova che tutte le cose che sono state presentate al processo fossero incontrovertibilmente vere non prova che lei abbia mentito su tutto prova però che ciò che c'è scritto in questo diciamo chiamiamolo corollario che ciò che c'è scritto in questa dichiarazione per il verdetto è effettivamente stato riconosciuto come detto in maniera falsa da Amber Heard quindi riguardo quell'articolo lei ha diffamato Gianni Depp alla luce delle prove che sono state portate ovviamente lei ha mentito su tante cose e questo è certificato perché ad esempio c'era la questione delle due foto che erano identiche tra di loro con lei che era nella stessa identica posizione solo che in una aveva qualcuno forse lei chissà aveva aumentato la saturazione per far sembrare il volto più paunazzo e gonfio l'altra invece era una foto un po' più desaturata e aveva detto no sono due foto diverse scattate in momenti vicini ma avevo acceso la luce in una di queste ma dai metadati risultava che le due foto erano state scattate lo stesso giorno la stessa ora lo stesso minuto lo stesso secondo che è impossibile cioè proprio fisicamente impossibile che io riesca a scattarmi una foto due foto in cui sono nella precisa identica posizione nello stesso secondo è proprio una cosa che non è possibile quindi già questo fa effettivamente pensare quindi il verdetto è stato completamente a favore di Johnny Depp che peraltro non era presente in aula perché se non sbaglio si trovava l'onda per lavoro c'era però Amber Heard che aveva una faccia naturalmente distrutta perché ha perso una causa di questo tipo non perde solo un mucchio di soldi ma perde anche la credibilità l'ha già persa durante il processo ma adesso per lei ci saranno tempi difficili quindi la giudice ha deciso che dei 50 milioni chiesti da Depp come risarcimento ne dovrà pagare lei 15 ma contemporaneamente la Heard aveva fatto una controcausa a Johnny Depp anche lì per diffamazione quindi questo processo serviva per avere un verdetto sulle due cause quindi quella per diffamazione tra cioè ai danni di Amber Heard intentata da Johnny Depp e poi l'Eva ha chiesto 100 milioni per diffamazione riguardante la dichiarazione rilasciata da Waldman il primo avvocato il precedente avvocato di Johnny Depp il quale aveva dichiarato parlando per Johnny Depp che Amber Heard aveva premeditato tutto quanto per rovinarlo quindi anche qui c'erano molte meno domande e dichiarazioni da effettivamente decidere se fossero vere oppure no sta di fatto che alla fine anche Johnny Depp è stato condannato a pagare 2 milioni dei 100 che lei aveva chiesto per diffamazione perché la maggior parte quasi tutte le domande a cui rispondere quindi le dichiarazioni da confermare o da smentire riguardanti per l'appunto il questa questa causa per diffamazione questa controcausa per diffamazione erano state confermate era stato risposto sì quindi era stato era stato confermato era stata confermata la dichiarazione era stato confermato che la dichiarazione era da parte di Johnny Depp a mezzo del proprio avvocato e che quindi c'era un intento diffamatorio perché non era verificata questa cosa per cui alla fine Amber Heard dovrà dare 13 milioni di dollari a Johnny Depp perché comunque era così e tra l'altro di quei 15 milioni c'erano 10 milioni e 5 milioni erano suddivisi in questo modo di quei 5 milioni in realtà c'era stata una sorta di sconto a 350 mila dollari quindi dovrà dare erano 15 milioni formali ridotti a 10 milioni a 350 mila dollari che è comunque una cifra alta che probabilmente lei pagherà grazie ai soldi che sono arrivati per via della cessione dei diritti di trasmissione del processo ma il punto è che Johnny Depp l'ha reso chiaro fin da subito a lui non interessavano i soldi la cifra richiesta era simbolica era un modo per far sì che lei pagasse per quello che ha fatto ma quello che gli importava era ricevere giustizia gli avvocati di Depp hanno rilasciato una dichiarazione dopo la fine del processo dicendo che sono contenti di aver permesso al loro cliente di ricevere finalmente giustizia e poi hanno detto ora è il momento di lasciarsi tutto questo alle spalle e di tornare a lavorare cioè in sostanza auguravano a Johnny Depp di poter tornare a lavorare a Hollywood come prima che accadesse tutto questo naturalmente ci sono stati state delle dichiarazioni da parte di entrambi che adesso vi leggerò perché entrambi hanno pubblicato su Instagram dei post allora vi leggo prima quello di Amber Heard che secondo me è quello più incisivo allora perché è quello su cui c'è più da dire perché molti non sono d'accordo con certe cose che lei ha scritto allora la delusione che provo oggi va oltre le parole ho il cuore spezzato perché la montagna di prove ancora non è stata abbastanza per affrontare il potere sproporzionato e l'influenza del mio ex marito sono ancora più delusa per quello che il verdetto significa per le altre donne è un passo indietro riporto indietro e lanciate l'orologio a un tempo in cui una donna che che parlava e diceva le cose che gli erano successo poteva essere pubblicamente svergognata e umiliata fa un passo indietro circa l'idea che la violenza contro le donne sia da prendere seriamente credo che gli avvocati di Johnny siano riusciti nel acchiappare il consenso della giuria utilizzando i concetti chiave di il concetto chiave di libertà di parola e ignorando la prova che è stata così decisiva nel processo che abbiamo vinto in UK sono triste di aver perso questo caso ma sono ancora più triste perché ancora di più ho perso il diritto che pensavo in quanto che pensavo di avere in quanto americana ovvero di parlare in maniera libera e aperta allora a me queste parole hanno un pochino irritato devo essere sincero sapete che io non mi sono mai schierato qui però non si tratta di schierarsi si tratta di analizzare quello che lei ha scritto allora ti hanno condannata per diffamazione no? e tu dici che questa è una sconfitta per tutte le altre donne cioè è stato certificato che hai diffamato a processo si è notato che hai mentito su alcune cose abbastanza importanti e il fatto che abbia mentito su alcune cose è abbastanza il dubbio poi diffamare non significa mentire quindi loro hanno stabilito che lei in quel modo ha diffamato però sulla base del fatto che si è visto che ha mentito in più di un'occasione questo è importante da comprendere quindi dire che è una sconfitta per le donne sì è una sconfitta per le donne secondo me perché adesso e l'ho detto io non dico che sia giusto io ho solo la mano in bocca nel constatare che probabilmente potrebbe succedere adesso ci sarà meno credibilità per un po' quando una donna accuserà un uomo di averla abusata in qualunque modo lo so che qualcuno quando l'avevo detto in uno dei video precedenti aveva detto ma cosa dici ragazzi già succede già sui social potete leggere persone che dicono ad ora in poi ci penserò due volte a credere alle accuse rivolte a un uomo da una donna posto che ancora noi non sappiamo e penso non sappiamo mai quanto lei abbia mentito quanta parte di colpa lui quanta parte di colpa lei perché questo è un processo per diffamazione è stato detto che lei con quell'articolo ha diffamato il che non significa che abbia però mentito su tutta la linea perché guardate che non sono la stessa cosa cioè il verdetto non è sul lei ha mentito è lei ha diffamato diffamare è diverso da mentire attenzione vuol dire che l'articolo aveva uno specifico intento diffamatorio che non è un verdetto su lei ha mentito sulla cosa in Australia l'ha mentito su quello no 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 non è un verdetto su quello quindi attenzione noi non sapremo mai quanto abbia mentito lei quanto abbia fatto lui se lui le se lui le abbia mai effettivamente messole mai addosso non è una cosa che sapremo mai è una verità che non ci è concesso sapere quindi temo che questa cosa avrà un impatto negativo per quanto riguarda la questione di altre donne che denunciano un abuso a livello pubblico soprattutto se si parla di persone che hanno una certa visibilità visto che parliamo di giorni da prendere per fare un parallelismo ma in generale quindi già questo secondo me sarà questa sì che è una sconfitta delle donne ma non nel nel modo in cui intendeva lei soprattutto dopo cioè lei dice dopo tutte le prove dopo la montagna di prove ma montagna di prove dove scusate che aveva detto che aveva i referti aveva le foto col naso che sembrava rotto eccetera e sono tutte prove che non sono mai state presentate la maggior parte delle prove che sono state presentate erano prove in cui lei non riportava i segni che diceva di aver riportato le persone che sono state interrogate non hanno mai visto un segno evidente sul suo volto non mi sembra che ci sia questa montagna di prove schiacciante per andare contro Johnny Depp e lei parla dello strapotere dell'influenza del suo ex marito ma il suo ex marito per lungo tempo è stato demolito dall'opinione pubblica nessuno voleva lavorare con lui lo trattavano come un appestato quindi tutto questo strapotere incredibile a me non è sembrato di vederlo sinceramente senza contare che gli avvocati di lei hanno portato dei testimoni che sembravano usciti dal circo lo psichiatra che smascellava e che pretendeva di fare una diagnosi a Johnny Depp per quanto riguarda lo stato della sua salute mentale senza neanche averci mai parlato l'altra consulente dello spettacolo che diceva che la Herd aveva una carriera avviata come era quella di Jason Momoa e Zendaya senza neanche aver mai visto un film di questi qui boh cioè tutta questa montagna è vero che io come ho detto io non ho visto tutte quante le prove però per l'amor del cielo sui punti cruciali a me queste prove schiaccianti non mi sembra di averle viste quindi lei si dice delusa e poi c'è la dichiarazione invece di Johnny Depp che ovviamente è una dichiarazione in cui ringrazia infinitamente le persone per averlo sostenuto allora sei anni fa la mia vita la vita dei miei bambini la vita delle persone più vicine a me e anche la vita delle persone che per molti molti anni mi hanno supportato e credevano in me è cambiata per sempre tutto in un batter d'occhio le accuse false molto serie criminali che sono state che mi sono state rivolte attraverso i media che hanno triggerato che hanno innescato un infinito contenuto di odio nei miei confronti sebbene non ci fossero state accuse non ci fossero state accuse in tribunale nei miei confronti tutto questo ha viaggiato intorno al mondo per due volte in un anno secondo e ha avuto un impatto sismico sulla mia vita e sulla mia carriera e sei anni dopo la giuria mi ha ridato indietro la mia vita sono veramente contento sono fiero di quello che è successo cioè nel senso sono fiero del fatto che ci sia stato questo verdetto la mia decisione di seguire questo caso sapendo molto bene la portata dei guai legali cioè delle trafile legali che avrei dovuto affrontare e l'inevitabile spettacolo in tutto il mondo della mia vita è stato fatto solo dopo un pensiero considerevole cioè dal fin dall'inizio l'obiettivo di portare questo caso era di rivelare la verità a prescindere da quello che sarebbe venuto fuori dicendo la verità dire la verità era qualcosa che dovevo ai miei figli e a tutti quelli che sono rimasti accanto a me per supportarmi mi sento in pace adesso finalmente ho raggiunto l'obiettivo sono e sono stato sopraffatto dall'incredibile mole di amore dal colossale supporto e gentilezza proveniente da tutto il mondo spero che la mia ricerca di avere la verità di far sì che la verità fosse letta in realtà aiuterà altre persone uomini o donne che si sono trovati nella mia situazione e che questo possa supportare possa aiutarli a non rinunciarci mai spero anche che la posizione che la the position the position sì che la posizione la ritornerà da innocente fino a prova contraria entrambi con la corte e con i media vi auguro di comprendere il nobile lavoro del giudice dei giurati della corte dello staff di corte degli sceriffi che cioè quindi in sostanza vuole 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 ringraziare il giudice il nobile lavoro del giudice i giurati lo staff della corte gli sceriffi che hanno sacrificato il loro tempo per arrivare a questo punto e al mio dirigente inarrestabile team di avvocati che hanno fatto un lavoro straordinario nell'aiutarmi a condividere la verità il meglio deve ancora venire e un nuovo capitolo finalmente inizia veritas nunquam perit la verità non muore mai quindi parole di ringraziamento lui è ovviamente soddisfatto di come tutto si è concluso peraltro assurdo che lui proprio ieri non ci fosse in aula e quindi si spera che adesso tutta questa storia se la lasciano alle spalle entrambi sembra che lei non farà ricorso quel che aveva già detto che non l'avrebbe fatto anche perché è tutto troppo costoso lei non se lo può permettere in realtà no altra domanda che viene fatta lui non farà ricorso per quanto riguarda il The Sun perché non può la causa contro il The Sun era stata persa per via di un cavilo adesso parlerò anche di quello e gli è stato negato il ricorso perché quella causa è stata persa perché innanzitutto non c'erano abbastanza prove perché il The Sun non potesse scrivere quello che ha scritto era questo il motivo ma poi c'era una perizia psichiatrica che certificava che Amber Heard si sentisse si fosse sentita in pericolo di vita questo ha avuto un peso quando poi c'è stata la perizia psichiatrica che è stata rifatta perché non hanno voluto usare le prove che erano uscite per il The Sun hanno voluto rifare tutto da capo per far sì che questo processo fosse un processo equo e fatto dall'inizio senza tener conto di sentenze precedenti dalle perizie psichiatriche che sono emerse in questo processo non è uscito che Amber Heard si fosse sentita in pericolo di vita in passato questo non vuol dire nulla per l'amore del cielo ogni esperto ogni psichiatra se su questo non abbiamo dubbi ma il discorso è che ovviamente è una cosa molto secondo me che dipende anche dal momento magari in quel momento lo psichiatra ha fatto delle domande diverse non si sa sta di fatto che per quanto riguarda questo specifico processo quel tipo di cosa non è venuta fuori quindi hanno scelto di ricominciare da capo quindi io spero che adesso tutta e due si lasciano alle spalle questa storia per lei sarà molto più difficile perché adesso vedremo cosa farà Warner mentre sto parlando non è ancora stato effettivamente rilasciato nessun comunicato stampa da parte di Warner io ribadisco quello che ho detto l'altra volta cioè io personalmente non ho intenzione di vedere Aquaman 2 se Amber Heard adesso che è stata condannata non verrà effettivamente rimossa dal film perché quando Johnny Depp è stato tolto da Animani Fantastici e l'hanno sostituito con Mads Mikkelsen ricordiamoci ricordiamoci Warner aveva detto ah io noi ti togliamo perché hai una sentenza contro i te c'è stata la sentenza contro i te non vogliamo avere problemi era questo il senso e l'hanno tolto dal film se adesso che anche lei è una sentenza che pende sulla sua testa non viene rimossa dal film io mi incazzo perché si manda anche un messaggio molto negativo come dire che se la sentenza è su un uomo allora lo dobbiamo togliere se invece è su una donna allora si può anche lasciare lì è ovvio che probabilmente non sarebbe neanche quello il senso ma è quello che verrebbe percepito dalla massa è inevitabile ti viene cioè la prima cosa che viene da dire è ho capito perché lui lo toglie e lei no oltretutto questa è una sentenza diversa da quella che c'è stata per il The Sun perché questa è una sentenza proprio sì lei ha diffamato Johnny Depp invece il The Sun è no il The Sun non l'ha diffamato perché non ci sono abbastanza prove per dire che l'abbia diffamato poi in Inghilterra perché è avvenuto tutto in UK la giustizia funziona diversamente la libertà di parola ha un peso è considerato in una maniera quasi assoluta quindi non era considerato diffamazione era considerato una sorta di cronaca per cui in questo senso hanno fatto un lavoro un po' particolare per quel processo quindi il fatto che abbiano tolto Depp con quella sentenza implica che tolgano anche Ameriard e se non la tolgono io mi incazzo e non andrò a vedere il film non sto dicendo che io invito altri a non vederlo sto dicendo cosa farò io io personalmente non sopporto l'idea che si facciano due pesi e due misure se vogliono fare due pesi e due misure possono farlo io però i miei soldi a un film in cui c'è una persona che non è stata rimossa come invece è stato rimosso l'ex marito in precedenza per motivi molto simili forse anche meno gravi a livello di sentenza che questa sentenza ha un peso maggiore insomma ha un peso maggiore sull'opinione pubblica perché c'è un avvocato che sul web ha fatto notare come effettivamente se noi prendiamo i due verdetti di questo processo quello che condanna lei paga il 15 milioni quello che condanna lui a pagarne due in legalese scritto in una maniera molto simile cioè sostanzialmente lei è stata riconosciuta col pevo di diffamazione lui è stato riconosciuto col pevo di diffamazione solo che lei lo ha diffamato cioè il peso è più grande perché lei l'ha diffamato per una cosa più grave e lui ha detto no lei ha organizzato tutto quanto ha premeditato tutto quanto quindi era un livello di diffamazione minore tra l'altro è ovvio che lei abbia vinto quella causa per diffamazione perché guardando il processo è normale che lei non avesse premeditato tutto perché viste le incongruenze che sono uscite se avesse pure premeditato tutto ci sarebbe da preoccuparsi si vedeva che lei probabilmente ha cercato ha mentito su alcune cose ha cercato di coprirla la bella e meglio perché non pensava che si sarebbe arrivati addirittura in tribunale con un processo trasmesso in tutto il mondo non era premeditato secondo me ha ragione a dire che lui che lui ha detto una falsità perché io non ci credo che sta roba era premeditata perché se fosse stata premeditata ammazza che brutta premeditazione mamma mia cioè se con tutte le incongruenze che sono state emerse era pure premeditato c'era da piangere io lo dico quindi concedetemi una mezza battuta concedetemi uno sbilanciamento per fare una battuta comunque sia io non trovo corretto però quello che lei sta subendo addirittura ha ricevuto minacce di morte e quant'altro e sul web sono stati creati tanti hashtag diffamatori su di lei ma ce n'è uno in particolare che per quanto mi riguarda è veramente brutto ovvero un hashtag che invitava i servizi sociali a prendere la figlia di Amber Heard ora posso capire che lei non si sia posta in maniera simpatica posso capire che durante il processo sia uscito che ha mentito su alcune cose posso capire che sono successe tante cose che non la rendono sicuramente la persona più popolare del mondo però da lì a creare un hashtag per far sì che gli assistenti sociali le portino via la figlia sulla base di cosa tra l'altro mi sembra una porcheria immonda la gente non si sa mai regolare hanno avuto entrambi un verdetto lui ha ricevuto la giustizia che voleva la sua immagine è stata sicuramente riabilitata ma perché bisogna accanirsi la corte la giuria il giudice il processo serve a far avere giustizia lei dovrà pagare una grossa una grossa somma di denaro si è fatta terra bruciata intorno perché accanirsi ulteriormente non mi sembra giusto e badate io non sono dalla parte di nessuno io sono dalla parte della giustizia johnny depp ha avuto giustizia johnny depp dovrà anche lui pagare una piccola cifra però a livello di opinione pubblica ha vinto ha vinto ha vinto il processo ha vinto l'opinione pubblica ha vinto tutto basta non c'è bisogno di accanirsi su di lei basta lasciatela nel suo brodo tanto a hollywood non la si vedrà più pagherà a pagare paga con la sentenza pagherà a livello di opinione pubblica fine perché invece dover esagerare dover andare oltre diventando giudice giurie carnefici noi stessi perché sostituirsi al giudice il giurice la giuria hanno fatto il loro lavoro lei pagherà questa storia è finita va bene così no perché invece andare oltre e diventare noi stessi un tribunale al di fuori del tribunale ma non ha senso non ha il minimo senso l'accalimento non è sensato ora in tanti si chiedono cosa accadrà allora io credo che la carriera di Johnny Depp adesso subirà un'impennata già deve girare un film su Luigi XIV c'è il rumore insistente che sarà anche in Beetlejuice 2 c'è questo rumore insistente che potrebbe essere vero secondo me per quanto riguarda i blockbusters se lo litigheranno perché ora come ora qualunque film con Johnny Depp protagonista incasserebbe una madonna anche il film più stupido anche il film con la trama più idiota e la scrittura peggiore la gente vuole rivedere Johnny Depp al cinema non è escluso che torni anche con la coda tra le gambe Disney che l'aveva licenziato preventivamente prima ancora che ci fossero processi vari lui ha detto in tribunale è stato controinterrogato ed è stata citata una cosa che lui ha detto che non tornerebbe a interpretare Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi neanche se Disney tornasse con un'offerta di 300 milioni e 100 mila alpaca questa era proprio la sua la sua specifica dichiarazione però ieri parlando con Rob Rob ha detto una cosa con cui io sono anche piuttosto d'accordo cioè lui se Disney chiedesse senti vuoi tornare a essere Jack Sparrow perché sanno che se facessero un film con lui come Jack Sparrow farebbe anche se è un film potrebbe anche essere un film orribile un film di merda farebbe i miliardi quindi l'idea potrebbe essere quella di chiedergli e lui potrebbe tornare dicendo lo faccio per amore del mio pubblico che mi ha supportato ho detto che non l'avrei fatto ma lo faccio per amore del pubblico che so che vuole rivedermi come Jack Sparrow quindi potrebbe anche darsi che succeda una cosa del genere magari poi non accade è solo una supposizione però secondo me è una barraggione lui accrescerebbe ancora di più la sua popolarità in questo modo cioè ora come ora vedrete che se lo litigheranno gli studios perché invece con lei c'è da fare il discorso opposto in questo momento nessuno credo che supporterebbe un film con protagonista o con all'interno del cast Amber Heard quindi nessuno vorrà lavorare con lei e questo è il discorso nessuno vorrà lavorare con lei per un po' non so se la sua carriera è finita per sempre ma sicuramente per una discreta quantità di tempo non la vedremo in giro lei adesso verrà purtroppo minacciata di morte da centinaia di migliaia di persone le diranno di tutto questo è sbagliato questo è sbagliato perché una volta finita la sentenza basta ma anche prima non bisogna minacciare le persone che cazzo c'entriamo noi però purtroppo andrà così sarà molto dura per lei per parecchio tempo non lavorerà più io sostengo che la leveranno anche da Aquaman 2 voglio sperare lì mi dispiace ma secondo me è giusto che la tolgano però staremo a vedere cosa succederà il punto è che se non dovessero togliere da Aquaman io penso che Aquaman flopperà perché un sacco di gente non andrà a vederlo perché non vuole vedere un film con Amber Heard e perché non è giusto che Amber Heard non venga tolta dal film ricordo che Animali Fantastici Segreti di Silente è stato uno dei peggiori flop della storia di Warner Pictures proprio per via delle molte persone che hanno deciso di non vederlo in quanto Johnny Depp era stato tolto dal film in quel modo quindi è molto particolare tutto questo tutto quello che è successo è molto particolare perché insomma sappiamo quanto sia difficile ottenere la verità e ancora non è che l'abbiamo ottenuta perché poi ripeto il processo non era per stabilire se lei si fosse inventata tutto eccetera era per stabilire se avesse diffamato Johnny Depp con quell'articolo oppure no ricordiamoci che lei durante il conto integratorio con la Vasquez ha detto a un certo punto perché lo ripeto l'ho già detto nel video precedente la Vasquez ha detto lei sapeva si sarebbe aspettata che così tante persone sarebbero intervenute in questo processo a testimoniare in favore del suo ex marito e lei ha detto certo che lo sapevo lui è un uomo molto potente ha amato da molti con una grande influenza per questo ha scritto quell'oped quell'articolo per contrastare questo potere e la Vasquez ha sorriso perché la Heard aveva sempre negato di aver scritto quell'articolo specificamente pensando a Johnny Depp cosa che invece è successa e poi c'è un rumor di un insider riguardo proprio il processo questa cosa mi fa mi manda i pazzi mo ci sono gli insider anche per i processi pazzesco come al cinema una roba allucinante questo insider dice che la giuria fino a qualche giorno fa era più d'accordo con Amber Heard poi sono andati tutti a casa per il Memorial Day e la giudice ha detto di solito le giurie non possono andare a casa durante il periodo di deliberazione ma siccome è una festa nazionale vi mandiamo a casa ma mi raccomando non fate ricerche sul web perché altrimenti venite influenzati i giurati sono tornati e sembra stando a questo insider che erano rimaste dopo questa pausa solo due persone ancora d'accordo con Amber Heard che sono state poi convinte dagli altri perché erano sette giurati e sapete che la giuria deve raggiungere un verdetto unanime non può esserci una persona due persone che non sono d'accordo con quello che dicono le altre tutte devono avere la stessa identica idea quindi può essere che si siano fatti influenzare dalle ricerche fatte su internet ma è solo un rumor è solo un rumor però se così fosse sarebbe emblematico che la giuria in aula era a favore di Amber Heard prima eventualmente di guardare le cose sul web il web ha influenzato moltissimo questo processo veramente tanto quindi è credo un caso storico non è mai successo che un processo venga trasmesso venisse trasmesso in questo modo sul web con tutte le persone che facevano i meme e quant'altro peraltro la questione dei meme è stata un po' ingiusta perché tutti i meme erano contro Amber Heard e quando alcuni meme dicevano delle cavolate tipo la cosa di lei posava conosceva le telecamere poi c'è stato il debunking di questa cosa cioè non è vero che lei posava le telecamere perché da altre prospettive si vedeva che era solo un gioco di prospettive in realtà lei non si era messa in posa oppure la cosa che anche io avevo preso per vera perché l'aveva riportata a testato autorevole poi l'ha cancellata infatti la cosa che lei avesse citato in un suo discorso non mi ricordo quale fosse il film però era un film sostanzialmente aveva citato un film e in realtà non era vero era una fake news però i debunking di queste fake news non sono girati tanto quanto sono girate le fake news stesse quando si trattava invece di falsità nei confronti di Johnny Depp subito giravano i debunking di quello il web l'ha proprio massacrata il web era completamente dalla parte di Johnny Depp questo bisogna dirlo quindi il mio pensiero è che ha vinto la giustizia si spera che abbia vinto la giustizia Johnny Depp ha avuto quello che voleva ottenere lui aveva detto che se anche avesse perso questa causa avrebbe continuato e continuato e continuato a citarla in giudizio a costo di prosciugarsi le finanze perché lui voleva la verità la convinzione con cui lui voleva questa verità ha fatto pensare a molti che lui fosse nel giusto perché molti si chiedono a che pro passare tutto questo calvario finanziario e psicologico se non sei convinto di avere ragione di essere nel giusto non fa una piega però noi la verità non la sapremo mai non la sapremo mai so solo che finalmente quest'uomo può avere della pace lei dovrà reinventarsi sicuramente ma è finita è finita è stato strano recuperare tutte queste tutti tutti gli highlights guardarsi le dirette del processo però siamo giunti alla fine di questo caso mediatico senza precedenti e quindi io ribadisco la mia posizione io non ho voluto parteggiare per nessuno proprio per questo motivo perché io non sono giudice non sono giudice non sono carnefice volevo lasciar fare alla giustizia americana adesso abbiamo avuto un verdetto tutto si è risolto nel bene o nel male Johnny Depp è felice potrebbe tornare a lavorare ora vedremo cosa succederà alla sua carriera quindi io vi ringrazio infinitamente per aver seguito questo video per aver seguito i video precedenti a questo per aver seguito le live grazie mille fatemi sapere la vostra opinione mi raccomando cercando di rimanere civili fatemi questo piacere cercate di rimanere civili nel vostro nella vostra discussione che farete col commento mi interessa che si rimanga civili quindi è finito tutto io vi abbraccio vi ringrazio grazie mille fatemi sapere un conto che sotto cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo MuiVlog ciao a tutti